ragazzi di arance rosse oggi vi porto ad acireale a farvi vedere una delle granite più buone nella provincia di catania ragazzi stiamo andando verso il bar e verso il duomo qui siamo ad acireale questo è il corso vedete quanta gente la gente con le mascherine totale sicurezza la gente c'è e mi fa piacere mettiamo la mascherina guardate che meraviglia guardate ci avviciniamo al duomo di acireale guardate che meraviglia meraviglioso guardate che meraviglia ragazzi questo è il duomo di acireale meraviglioso meraviglioso che bellezza guardate i colori e atmosfere meraviglioso meraviglioso ci sono queste campane abbiamo ordinato una bella granita mandorla tostata mi hanno suggerito e pistacchio dicono che la fa buonissima è una brioche ne volevo prendere due però mi vergogna a mangiarne due davanti agli altri ragazzi è arrivata che bella ho presa mandorla tostata e pistacchio qui c'è la brioche col tutto questa è una classica cosa siciliana la brioche col tutto la panna non mi sembra artigianale però la granita è buona non ci sopra 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 ma ci meraviglioso Grazie a tutti. 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 Che dire, la granita è abbastanza buona, ne assaggiate di meglio. Mi aspettavo qualcosina in più. La Vanna secondo me non era artigianale. Però 4,10 euro, prezzo normale. Però in Sicilia con 4,10 euro, mangiate una cosa buonissima che è la granita, con poco prezzo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, belli.